Presidente Tonelli, si rinnova questa partnership, questo accordo fra la tua e la Cap3? Come abruzzese dico che è un evento estremamente favorevole perché abbiamo la presenza di aziende importanti che conoscete. Queste aziende devono poter portare e utilizzare mezzi ferroviari, a parte non intassare le strade ma anche più economico farlo, e quindi bisogna sviluppare e stare al passo. Sangritana Spa, perché come sapete è una società posseduta da tua al 100%, l'abbiamo proprio destinata ai servizi a mercato, cioè dove non ci sono interventi pubblici, quindi si deve autofinanziare e autogestire. Bene, questa è un'attività importantissima perché abbiamo la SEVA, abbiamo altre aziende e con Cap3 noi siamo andati a completare un po' l'operatività aziendale perché Cap3, noi serviamo la fascia costiera adriatica, Cap3 ci consente invece di espanderci in Europa. Ormai sono sei anni che stiamo già lavorando insieme, con successo, in questi anni abbiamo addirittura triplicato le nostre attività e per noi Sangritana Tua è un partner di riferimento per tutto il centro-sud, stiamo sviluppando sempre di più. Noi facciamo parte del gruppo SNCF, siamo internazionali presenti in tutta Europa e per noi questo è il partner per fare il centro-sud. Per noi apre nuovi mercati, ma soprattutto li apre per la realtà locale. Noi come sapete prevalentemente esportiamo dall'Abruzzo, i nostri treni prevalentemente vanno verso il nord carichi e quindi facendo business insieme aiutiamo anche tutte le realtà locali, industriali e regionali.